Musica Devo dire che sono veramente molto contenta perché abbiamo già fatto alcune prove e bambini emozionati ma bravissimi e spero veramente di far vedere quanto talento hanno e cosa sanno fare Un vero e proprio concerto di Natale, quello dei bambini della scuola di musica Area Mondo Music and English che si terrà nella bellissima cornice della Pieve di Arezzo il prossimo 16 dicembre Prima un suggestivo mercatino del Calcit, dalle 10 alle 14.30, poi alle 19 il concerto con la collaborazione dei musicisti di Per Amore della Musica e della Solidarietà e la partecipazione straordinaria del maestro Fabio Martoglio che porterà la canzone dedicata alla Madonna del Conforto, parole di Dario Salvi La signora su in collina che protegge questa cittadina Cittadina credetemi, non è un vezzo Sto parlando proprio di Arezzo A tutte le ore ci puoi andare È la Madonna del Conforto Ci troviamo qui nella taverna proprio della musica Severino, due parole di commiato e un invito alla cittadinanza a partecipare Intanto ringrazio Fabio Martoglio, il maestro Martoglio la maestra Arianna Malatesti abbiamo fatto delle belle cose anche con i bambini anche su alla provincia, sempre con Don Alvaro Adesso vi invito tutti quanti al prossimo concerto di sabato 16 dicembre alle ore 19 Ricordo inoltre che dalle 10 e mezzo della mattina alle 14 e 30 ci sarà un mercatino sempre di questi bambini il cui ricavato va interamente al calcite in cui mi sento partecipe quindi è ancora un invito a presenziare a questo mercatino del calcite in quanto sia il mercatino che la serata le offerte della serata saranno tutte devolute allo scudo acronimo di cure domiciliari a malati oncologici